Perché come sottotitolo hai scritto il mondo dell'oltretomba? La sponda destra del Tevere è sempre stata considerata come la sponda delle anime ed è su questa riva che fin dall'epoca del dominio etrusco, senza tralasciare l'alternanza di governo dell'urbe tra i re Sabini e i re etruschi, avvenivano le sepolture. Ipotesi e supposizioni fanno risalire addirittura il panteon etrusco su questa riva, così come è ancora visibile in questa zona. La più antica strada di fattura etrusca che arrivava ai campi di Sale ad Ostia è la via Campana, fatta affiancare in seguito da Ancomarzio dalla via del Porto e sostituita dall'imperatore Claudio con la via Portuensis, che conduceva ai porti di Traiano, Tiberio e Claudio stesso. È un'area ricca di limitata storia, intresa di misteri e segreti che partendo da Santa Maria in Fonsolei, ovvero la storica basilica di Santa Maria in Frastevere, l'ho narrata con uno stile diciamo leggero e inevitabile, proprio del mio stile. È un libro arricchito da alcune poesie di Michela Zanarella dedicate alla città eterna. Michela Zanarella è stata insignita dal titolo di ambasciatrice della poesia italiana in Libano ed è stato un onore per me accogliere le sue poesie in questo libro, che tratta con dovizia di particolari e documentazione fotografica, da luoghi, monumenti, strade, personaggi, eventi, targhe, abitazioni, leggende, posti ancora esistenti o scomparzi, o da riscoprire appunto del valore culturale e artistico di tutta la sponda destra del fiume Tevere, fino alla sua foce. Ma anche un libro denuncia per alcuni luoghi della sponda destra del Tevere, dove i simboli storici dei quartieri che si affacciano sul fiume Sacro fin dall'epoca etrusca stanno inesauribilmente scomparendo a causa dell'incuria e della cementificazione su queste opere magnifiche e storiche dell'uomo.